Buon venerdì a tutti, attenzione alla nuova fregatura che è in arrivo sulle bollette di rete fissa, mobile o internet da parte dei gestori telefonici. È in arrivo una comunicazione che potrebbe a breve cambiare gli importi che non saranno più fissi, bensì saranno importi variabili. La notizia ha fatto così scalpore che tutte le associazioni a tutela dei consumatori, antitrust e garante delle comunicazioni stanno lavorando proprio in merito a questo. Perché per il 1 gennaio 2024 stanno organizzando tutto quanto per far sì che gli importi saranno aumentati in modo automatico, senza alcuna comunicazione, per le nuove domande e per i vecchi contratti. Quindi fate attenzione a questa comunicazione. Ovviamente si può rescindere dal contratto senza ulteriori costi, pertanto verificate le bollette. Al momento i due gestori che hanno adottato questa procedura di inviare una comunicazione sono Wind3 ed Team, ma non si esclude che tutti gli altri gestori possono fare la stessa cosa. La notizia ha fatto matta Z�IA, perché attenzione a questa sculptatura può risultare il 2029?